PORCO DIO MA GISHANDE CHEL CAZZO DA BOLIRIS Ok partito, GGD, BUNNED REACTION BUNNED REACTION ufficiale appena aperto C'è solo uno spoiler e basta E la voglio guardare subito Poi minchia lo montiamo a best questo video Lo devo già vedere per forza Dragoblocco a zero Ciao Ada È morto Adamati Non lo so È morto, è morto Ciao un saluto a te Poi Jet Synchron è rip Piange il cuore anche a me Ce l'aspettavamo tutti penso E quindi vabbè, sti mega cazzi O Lion Questa più pesante per Però c'è Nidl Fighter C'è Link Ross per, oddio Non si sa, per adesso Sì, non hanno toccato niente di Link Quindi c'è tutta la madonna possibile immaginabile Han toccato le carte principali Dovete giocare i cazzaviti E mi dispiace per voi Basta li Bannate solo questi tre C'è solo Figa È morto la madonna Eeeh A uno Mago doppia iride raga Ma Ma vi rendete conto che io adesso Il mazzo fa schifo uguale Però Posso giocare Driden che spacca da boliri Se ha a darmi Una trappola Wow Vabbè dai Lo porterò sicuramente sul canale Però che cazzo Lo volevo da un casino Rasti a uno Con la run cap Senza con la run cap Con la run cap E sai cosa? Che c'è ragione Quel coglione Che diceva che tornava a uno Ma non torna a uno Per i suoi motivi Torna a uno Per la commerciata di pick up Vabbè Vabbè Cali yuga raga C'è ancora FD di merda in culo È coso Quello che Calamity Calamity di merda Cioè rendiamoci conto Deficenti Cool Inspiegabile Cioè Dino diventa Full power Ma praticamente Se le entra Sono più bilanciate Se vuoi giocare un combo adesso Eh però non Le dentro te le becchi Porca ma no Poi E io vieni spiegabile un cazzo Raga Spolverino a uno Minchia ma lo devo comprare fast Adesso da un italiano a 30 euro Secret io lo devo comprare Fast lo compro spolverino Side fissa Ciao Ivo Ciao E vabbè Capita Semi limitate E sbanned Cira 2 Cira 2 Lore Cira 2 Ma tua mamma fa gli gnocchi Cristo ma Cira 2 Ma gioca via Vai a cagare Cira 2 Dai Graffa 2 Lore Cosa cazzo aspetti Lore Succhiamocelo insieme Vabbè ABC è davvero Lo spotente a 2 Perché ha una Sinceramente Che cazzo L'ha messa a fare Però Cioè Graffa e Cira 2 Raga Ma Tura Con l'errata Ci sapeva Con quella più chiamata di tutte Tura 3 Cazzo siamo A ottobre 2014 Che bisogna vendere BA Tipo ma Ma raga Cioè Pensate anche ai 3 axis Che ci sono In combo con Dragon Link Adesso Che portano È più consistente Stato Io non so Un cazzo Però ho visto i video Raga Fra Cazzo Felicite Gust Kraken Che cazzo me ne frega Cioè Voglio dire Non lo so perché Non lo so Che cazzo me ne frega Panteismo a 3 Perché l'ho detto Prima in ufficio Esatto Lo fa cagare Confermo Può andare Poteva andare anche a 4 Che Monarch pulpa Cioè Cazzo non è colpo Vedo Ancora Ancora 3 Sky Sky Robi Ciao L'orea L'orea è il mio Sky L'orea è il mio Sky Semplicissimo Ragazzi Per dirvela Proprio Cosa Nico Cosa ne pensi Di Eldlish Intoccato E Dino Intoccato C'è Veramente una verità Ma io tanto Spacco Magician E prendo La trappola E mando al cimitero Senza targhettare Quindi Dragon Me lo succhia Ma se pensate Senza Colled Cioè Dino Con Mistosauro È una roba Abominevole Ma a parte Colled Che porca puttana Ma Veramente Ma che cazzo è Però la Colami Mi ha ascoltato Cioè Una ban Cioè Non per molti Però mi piace Oh Dai La chiudiamo qua Tanto che cazzo Ce ne frega Guardate cosa stavo Giocando io Abbandoniamo Bisogna testare Aspetta Aspetta Abbandoniamo anche lui E vabbè No raga Veramente una Signora Banned Dai 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 sti cazzi Da Nico è tutto E viva i Gigi Di Porca troia Tornato Os Tornato A Tornato Lansato Tornato Pornato Pornato